La cenere sul capo ci ricorda che siamo polvere, e in polvere torneremo. Ma su questa nostra polvere Dio ha soffiato il suo Spirito di vita. Allora non possiamo vivere inseguendo la polvere, andando dietro a cose che oggi ci sono e domani svaniscono. Torniamo allo Spirito, datore di vita. Torniamo al fuoco che fa risorgere le nostre ceneri, a quel fuoco che ci insegna a amare. Saremmo sempre polvere, ma come dice l'inno liturgico, polvere innamorato.